Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Votatina Day, cosa mangio in un giorno durante la mia dieta. Anche oggi faremo insieme dei piatti buonissimi, sani e soprattutto veloci. Allora, partiamo subito dalla mia colazione, che è stata una colazione davvero super super semplice e velocissima da preparare. Ho semplicemente tostato una fetta di pani e cereali su una piastra, dopodiché ci ho spalmato sopra un po' di burro di arachidi al cacao, questo è quello della Nutre, buonissimo, ve lo straconsiglio, vi lascio comunque il link giù nell'info box, e sopra ci ho messo della frutta fresca, in questo caso ci ho messo un kiwi e un po' di sciroppo di agave, potete scegliere ovviamente la frutta che preferite, quella di stagione. E questa è stata la mia colazione, ovviamente ho accompagnato questa fetta di pane con una bella tazza di tè caldo. Siamo al pranzo, orecchiette, ceci, zucchine e olive nere. Prima di tutto ho messo in una pentola le zucchine, un po' di olio e un po' di acqua, quando le zucchine si sono ammorbidite ho aggiunto anche i ceci, e la mia salsa di pomodoro che avevo già preparato in precedenza con le olive nere. Ho cotto tutto per circa 20 minuti, dopodiché ho cotto le mie orecchiette e questo è stato il mio pranzo. E' un piatto unico che contiene tutto, verdure, proteine, carboidrati. Passiamo allo snack, il cupolotto a riso soffiato con cuore di marmellata e yogurt. Buonissimo, dovete assolutamente provarlo. Allora, facilissimo da fare. Prima di tutto prendete 15 grammi di riso soffiato e 3 cubetti piccoli di cioccolato fondente. Ricoprite con della pellicola una ciotolina o non so, i pirottini dei muffin, vanno bene anche quelli. Sciogliete il cioccolato fondente, lo mescolate al riso soffiato e andate a mettere il riso soffiato nel cupolotto ricoperto di pellicola. Andate a ricoprire tutti i lati e lasciatene un pochettino per il fondo. Al centro di questo cupolotto ci vado a mettere dello yogurt bianco, meglio se yogurt greco perché è un po' più solido rispetto allo yogurt normale e al centro un cuore di marmellata oppure magari crema proteica, quella che preferite. Finisco di ricoprire con il riso soffiato che ho messo da parte, vado a chiudere con la pellicola e vado a mettere in frigo per circa 10-15 minuti fin quando si solidifica per bene. Ed ecco il mio cupolotto. Alla fine ci vado a mettere sopra un po' di crema proteica, questa è mandorle cocco ed è la nuova crema proteica vegan della marca sempre Nutre. Devo dire che è buona, è molto cremosa, però il cocco si sente poco. Avrei preferito che si sentisse un pochettino di più. Comunque se siete curiosi come sempre trovate il link, come vi dicevo, giù nell'info box. Provatelo perché è delizioso, buonissimo, sarà uno dei vostri snack preferiti. Passiamo alla cena, una cena molto leggera, petto di pollo alla piastra con finocchi e arancia. È davvero un'ottima accoppiata, ci sta veramente benissimo la carne insieme all'arancia, provatela. Allora, prima di tutto ho tagliato un finocchio in maniera molto sottile, l'ho messo all'interno di una ciotola. Ho preparato una salsina fatta semplicemente con il succo di mezza arancia, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale e un po' di scorza di arancia. L'ho tenuta da parte. L'altra metà dell'arancia l'ho tagliata, l'ho sbucciata e l'ho messa insieme ai finocchi. Se siete due persone, ovviamente calcolate un'altra metà arancia o comunque un'arancia intera, poi dipende anche dai gusti, se ne volete di più, se ne volete di meno. Alla fine male non fa l'arancia. Quindi l'ho messa insieme ai finocchi, insieme alla salsina che ho creato, ho cotto due fettine di petto di pollo e ho servito insieme alla mia insalata di finocchi. E la mia cena è pronta. Potete aggiungere anche un carboidrato, in questo caso magari una fettina di pane di semola, dei crackers o delle fette biscottate. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto, vi aspetto nel mio prossimo What a Etina Day, vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!